Cono d'ombra, angolo cieco, ci sono tanti modi per chiamare un effetto, chiamiamolo una limitazione dei trasduttori quando andiamo in cerca di target o cerchiamo di fare un'analisi del fondo. In questo video cercherò, proprio grazie a una presentazione, a spiegarvi nel miglior modo possibile, cos'è il cono d'ombra, come viene generato, quali sono le limitazioni e cosa bisogna fare per limitare al massimo i suoi effetti. Approfitto però anche per ringraziarvi veramente di cuore per il successo che sta avendo il mio canale e i video che sto facendo. Abbiamo superato le 20.000 ore di visualizzazione. È un risultato incredibile, 150.000 visualizzazioni per 20.000 ore. Quindi innanzitutto grazie, grazie a tutti quelli che si sono iscritti, che hanno messo like, che mi lasciano un commento, perché tutto questo è molto importante per far crescere il canale e darmi la possibilità quindi di preparare e di fare anche sempre contenuti nuovi e interessanti per voi, chiamategli ecoscandagli. Detto questo, iniziamo subito con la presentazione cono d'ombra, angolo cieco dei trasduttori. Qui praticamente è rappresentata una barca, il mare, il fondo del mare, in questo momento è piatto e c'è lo schermo dell'ecoscandaglio a destra. Non ho messo appositamente nessun punto di riferimento come profondità, numeri in generale, perché non è importante la profondità. Questi effetti si verificano a 10 metri, come a 50, come a 100, come a 500. È solamente una questione di scale e di proporzioni. Lì avrei potuto mettere qualsiasi numero. Vi anticipo già che alla fine del video ci sarà un bonus, una cosa un po', diciamo, un qualcosa in più, che riguarderà lo shift, come viene rappresentato lo shift e il cono d'ombra, l'angolo cieco, anche in funzione dello shift. Ma adesso guardiamo insieme la presentazione e cerchiamo di capire cos'è e come funziona. Abbiamo detto fondo piatto, le due linee verticali rappresentano il cono, l'emissione, diciamo, la zona dove vengono emessi gli ultrasuoni. Questo punto superiore sulla banda rossa che si crea sul nostro ecoscandaglio è il fondo, che corrisponde al punto più vicino, attenzione a come lo identifico, al punto più vicino del suolo con il nostro trasduttore. La parte bassa, invece, del nostro fondo, della nostra banda rossa, corrisponde al punto più esterno del cono di radiazione. Perché c'è questa differenza? Perché un punto è più alto e l'altro è più basso? Come vi ricordate, l'impulso trasonico parte dal nostro trasduttore, va verso il fondo e l'ecoscandaglio misura il tempo che passa dal momento in cui fa partire l'impulso e il tempo in cui questo impulso è ritornato verso il trasduttore. Va da sé che se noi abbiamo un punto più vicino al trasduttore, questo impulso sarà sicuramente più breve, arriverà prima, rispetto allo stesso impulso che deve andare però fino qua giù in fondo e tornare su. Se abbiamo un trasduttore con l'angolo stretto, questo effetto diminuisce. Infatti, la banda rossa, come vedete, diventa più stretta. Abbiamo la parte sempre esterna del nostro cono che è un po' più lunga rispetto alla parte centrale e quindi la banda rossa diventa più stretta rispetto a prima. Rivediamo. Banda della bassa frequenza, quindi cono largo. Banda della stretta, angolo, scusate, angolo stretto dell'alta frequenza. Andiamo avanti. Questa zona che vedete sotto la parte gialla è quella che identifica il cono d'ombra o angolo cieco del trasduttore e si vede bene sul nostro ecoscandaglio. La freccia gialla corrisponde al punto centrale, il punto più vicino trasduttore, quello che raggiunge prima il fondo. La freccia blu indica invece il punto più esterno e si genera appunto la banda rossa. In questo caso il pesce, anche se in teoria è illuminato dal nostro trasduttore e riceve anche un impulso, andrà a trovarsi quindi all'interno della banda rossa. Adesso vediamo cosa succede in corrispondenza di una secca. Facciamo avanzare la secca. Fino adesso non è cambiato nulla. Qui se c'era un target, un pesce qualsiasi, sopra la nostra curva gialla, viene tranquillamente visto anche dal nostro ecoscandaglio. Ricapitoliamo le misure che abbiamo visto prima. Freccia gialla corrisponde alla misura del punto più vicino al trasduttore. Fleccia blu, il punto più lontano. Adesso la secca comincia ad entrare nel campo, chiamiamolo visivo, del nostro impulso trassonico. Come vedete la freccia gialla si è alzata e si è alzato anche tutto l'arco che corrisponde a questa misura. Il nostro ecoscandaglio non ci darà più la profondità, quella che viene vista qui con la freccia verde, perché questa freccia si trova all'interno della banda rossa. Il punto più estremo, la parte finale, è sempre la freccia blu. Continuiamo ad avvicinarci alla secca. come vedete si sta diminuendo sempre di più il valore della freccia gialla, quindi la profondità, la parte alta della banda rossa si alza, mentre la parte bassa della banda rossa rimane sempre costante, perché la freccia blu è sempre allo stesso identico punto, nel punto più lontano che riesce illuminare il nostro trasduttore. E se c'è un pesce sotto la banda gialla, magari vicino alla secca, anche se è illuminato dal nostro trasduttore riusciamo a vederlo? No, perché come vedete il nostro trasduttore inizia a disegnare la banda rossa nel punto della freccia gialla, il pesce che si trova un po' più giù va a finire all'interno della banda rossa, mentre il punto più esterno del nostro fascio ultrasonico, che corrisponde alla freccia blu, arriva qui e quindi la parte finale della banda rossa è qua giù in fondo. Se ci avviciniamo ancora alla secca, la freccia gialla continua a salire, quindi la profondità diminuisce ancora quella letta sull'ecoscandaglio, mentre il punto più esterno rimane comunque sempre uguale. Questa cosa è molto importante da capire, perché così quando voi andate a vedere la banda del vostro ecoscandaglio, perché siete magari fermi su una secca, capite se vi trovate vicino una zona scoscesa o con un masso o con una buca, che vi crea questo effetto, questa visione, cioè un fondo molto molto spesso. Nel caso in voi invece siate su un fondo piatto, non inclinato, la banda rossa sarà sempre sottile, più stretta. Continuiamo ad andare sopra la secca. Notate che la freccia blu non si è ancora spostata. Continuiamo ad avanzare. Ecco, qui avviene il salto. La freccia blu non è più in grado di raggiungere la parte più bassa del fondo e quindi l'ecoscandaglio ci mostra di nuovo una banda stretta, con la parte superiore sempre data al punto più vicino al trasduttore e la parte più bassa il punto più lontano. Rivediamo in sequenza di nuovo questi passaggi. Qui siamo nella posizione di fondo piatto e tutto rimane costante. Come ci avviciniamo? La banda rossa cresce prima sopra. Guardate. E dopo, una volta che abbiamo raggiunto l'apice, inizia a crescere anche sotto. Se andiamo ancora avanti, ricresce di nuovo sotto, rimanendo pressoché costante sopra, perché il nostro fascio riesce a raggiungere di nuovo la profondità che sta alla base. Dopo, piano piano, scende anche la parte sopra. Attenzione che in tutte queste situazioni, tutta questa zona, tutto quello che sta sotto il nostro arco giallo, non è visibile. Qualsiasi target si trovasse in questa posizione, andrebbe sempre a finire all'interno della nostra banda rossa. Quindi, quando noi ci fermiamo sopra una secca, vi ricordo che quando siamo fermi, l'ecoscandaglio rappresenta sempre un fondo piatto, come in questo caso, ma sotto il fondo non è assolutamente piatto. E all'interno di questa banda rossa noi possiamo avere tantissimi target che normalmente non vengono visti. Andando ancora avanti, ci ritroviamo di nuovo nella situazione di fondo piatto. Ecco perché sugli ecoscandagli, quando noi usiamo il doppio canale, cioè due frequenze, una bassa e una alta, vedremo la parte bassa più larga sulla bassa frequenza e più stretta nell'alta frequenza. E anche i relitti, o i target, come in questo caso, sulla parte della bassa frequenza, sono più larghi rispetto l'alta frequenza, proprio perché più largo il cono, più si verifica quell'effetto che vi ho mostrato. Più è stretto, più l'effetto è minore. E adesso il bonus. Come viene visualizzato lo schermo dell'ecoscandaglio quando utilizziamo lo shift? Con lo shift, sapete, noi andiamo a spostare il punto di lettura del nostro ecoscandaglio. Quindi abbiamo un valore più alto, quello più vicino al trasduttore, che corrisponde alla freccia verde. Le impostiamo noi sullo strumento. Abbiamo un valore più basso, fine lettura dello strumento, che è sotto la freccia viola, cioè arriva fino alla fine dello schermo. E la banda rossa che abbiamo all'interno del nostro shift è data da questi due valori. Il giallo, che corrisponde al punto più vicino del fondo, sempre al trasduttore. E il viola, che corrisponde al punto più lontano. Con il shift noi riusciamo a vedere tutti i target che sono all'interno di questi due coni. Quindi non vediamo una cosa, come dire, un rettangolo, ma vediamo questa forma, che sono due tronchi di cono, fondamentalmente, in cui riusciamo a vedere i target. Ecco, bisogna ragionarci un po' sopra, perché così capirete meglio come effettivamente vede e legge il nostro ecoscandaglio. Spero vi sia stato utile questo video per chiarirvi le idee, ma attenzione, non è ancora finito. Vi lascio un esercizio per casa e dopo scrivetemi magari nei commenti come lo risolvete. Io vi ho mostrato una secca, una roccia. Abbiamo visto come si comporta il nostro ecoscandaglio, la banda rossa, come si ingrandisce, si restringe. Ma se noi stiamo pescando e sotto di noi c'è una buca, quindi non qualcosa che va su, ma un crepaccio, una buca, che è anche molto interessante. Secondo voi cosa succede alla banda rossa? Noi stiamo con la barca, stiamo navigando e passiamo sopra una buca. Provate a pensarci un attimo e scrivetemi sotto cosa ne pensate. Dopo un po' di commenti vi darò la soluzione. Grazie e ci vediamo al prossimo video.